Questa Costituzione, con i numeri che si vedono, 50 da una parte, 50 dall'altra, 45, ha diviso il Paese e non può una legge costituzionale essere non percepita come propria dalla metà del Paese. Qualunque sia il risultato, se è il sì, non è possibile che questa sia considerata una vera riforma della Costituzione. Grazie mille. Grazie bravi, bellissimo, che bello. Buon viaggio, auguri, 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 buon viaggio a Faticiano. Inizieremo. Buon viaggio. E una cosa fondamentale che dobbiamo ricordare a tutti gli elettori che incontreremo è che questo referendum non ha quorum. Per far valere il no bisogna andare a votare. Stare a casa significa favorire il sì. Favorire una situazione di pericolo per la nostra democrazia. Favorire la possibilità di una deriva autoritaria che potrebbe diventare una dittatura della sinistra. Significa dare una legittimazione col voto a questo governo che una legittimazione non ha mai avuto. Significa con il no poter mettersi a lavorare intorno a una Costituzione di cui il Paese ha assolutamente bisogno che cominci col dimezzamento del numero dei parlamentari, con il mandare a casa i parlamentari che cambiano bandiera, con prevedere finalmente l'elezione diretta dal Capo dello Stato da parte dei cittadini. Grazie. Grazie.